E' stato già definito il Palazzo della Luce. Con le sue 9 sale congressuali ed un totale di 2620 posti a sedere in 6.000 metri quadrati, il nuovo Palacongressi della Mostra d'Oltremare è la struttura più importante del Sud Italia. Costruita con le più recenti tecnologie per assicurare la trasmissione delle conferenze in ogni parte del mondo in simultanea, è in grado di competere sui mercati nazionali ed internazionali. E' stata inaugurata la presenza delle massime autorità locali ed i membri della Commissione europea che hanno voluto verificare personalmente sia i programmi già attivi che i nuovi progetti, poiché i fondi europei a disposizione della Mostra, che è anche candidata alla nomina Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, arrivano a 50 milioni di euro e serviranno a renderla centrale nello sviluppo della città, della regione e del Sud. Già in vista dei prossimi appuntamenti del World Urban Forum, del Congresso Mondiale dell'Aerospazio e del Forum delle Culture. Il parco della Mostra si estende su 70.000 metri quadrati, è ricco di specie arboree e fra pochi mesi vedrà completare altre strutture. Oltre all'Arena Flegrea, agli impianti sportivi, alla vasta area archeologica e agli altri padiglioni, a fine estate saranno infatti completati il Ristorante della Piscina con 2000 posti ed il Teatro dei Piccoli che ne avrà 500.